Ciao, ciao. Segnalazione di un cittadino è arrivata in redazione da Pesaro, nello specifico nel quartiere Soria, nei pressi della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, dove un collaboratore scolastico lamenta lo stato in cui riversa la zona antistante e l'ingresso dell'istituto, nello specifico i marciapiedi e le strade, diventati pericolosi per l'incolumità degli studenti. Abbiamo marciapiedi, disfatti, abbiamo fatto fare qualche rattoppo, ha detto che c'è nel bilancio 2019, ma purtroppo qui il bilancio 2019, siamo arrivati a metà anno, ancora non si è visto nessuno. Ha messo uno strato di catrame a freddo qualche mese fa, i ragazzi si sono affossati nel catrame e lo riportavano tutto dentro. Nonostante le diverse sollecitazioni effettuate nei confronti del Comune, attraverso numerose mail, richiami e richieste, il segnalatore lancia un appello. Io dico una cosa, a chi gestisce la città di Pesaro, di avere un occhio a riguardare anche, non solo strade, ma anche marciapiedi, perché io ho visto anche rifare strade appena rifatte. Marciapiedi? Niente. Qui abbiamo un ragazzo che ogni mattina passa con la sua sedia a rotelle, pur di non passare sul marciapiede, che non si sa come va a finire, passa in mezzo alla strada. Purtroppo non abbiamo avuto risposte positive. Dopo un precedente contatto con la nostra redazione, il cittadino ha informato che gli operatori ecologici sono passati soltanto una volta per ripulire il tratto interessato. Sono passati una volta. Gli ho detto anche dei bidoni della carta, che ogni settimana, ogni mercoledì, ce li vuotano. Erano tre settimane che non li vuotavano. Nella zona del centro, dove abita il signor sindaco, i vari assessori e quant'altro che gestisce la città, passano due o tre volte, se non tutte le mattine.